Io sono Carmen del Valle Gonzale, vengo d'Italia, Torino. Lo avevo visto e sentito su Facebook, non potendo fare questo lavoro in Italia perché mi costava troppo, era una cifra esorbitante, una bella accoglienza, sembra che stava in Italia, non mi è mancato niente. Quasi tutti gli stati della clinica parlano italiano, ci seguono, ci informano, c'è una contante informazione. L'oggettivo è sentirti e farti sentire bene. Io ho fatto una chirurgia normale, la più semplice, nel mio caso non era complicato, ho fatto sei implante sopra, cinque sotto. Sono stata così onesta perché il mio preventivo, loro, mi avevano detto che erano dodici impianti. E quando sono venuta il preventivo è cambiato, mi hanno tolto un impianto, i soldi me lo hanno ridato immediatamente, senza io chiedere, non lo sapeva neanche di questo, mi hanno informato loro, onestissimi, proprio nel confronto, molto onesto, molto professionale. Grazie a Corrado Palma abbiamo trovato questo coraggio di uscire da nostro paese, a venire a una terra sconosciuta e ci siamo trovati proprio lo che cercavamo, lo che il nostro non ce lo permetteva di fare, sorridere, mangiare, avere assenso alle cure. Non te lo regalano, costano, però non come di noi. E guarda, un'altra vita, mi sento nuova. Sono felice, felice, grazie a tutti. Grazie a tutti.